ciao a tutti popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video un altro video spiegazione perché io devo dare molte spiegazioni sul canale purtroppo non essendo una grande pagina dove io posso fare quello che voglio anche se effettivamente faccio quello che voglio perché il canale mio non me ne frega un cazzo di nessuno e ogni tanto giustamente devo chiarire alcuni piccoli concetti io l'ultimo video non so se uscirà prima questo prima quello spiegato perché il perché di questo tipo di programmazione così a lungo termine mi vedrete con le maniche corte e avrò registrato a settembre del 2019 avrò voi avrete le felpe e mi state guardando nell'inverno 2021 più o meno no sto scherzando intorno al comunque sicuramente gennaio febbraio mi guarderete sono 82 video che ho mandato in registrazione e poi ho creato questa piccola rubrica che non è proprio una rubrica perché non c'è da nessuna parte che si chiama rubrica insomma si chiamano questi video pronto consumo ormai l'avete capito lo sfondo è questo per adesso prima che io possa partire in germania poi lo sfondo cambierà di conseguenza anche gli argomenti che tratteremo e di base perché sto facendo questi video pronto consumo perché sono un modo diretto per parlare di un argomento senza troppi fronzoli c'è nel senso se avete visto la programmazione che sta già andando sono dei video quelli sono dei video molto più lunghi molto più architettati più elaborati più pensati sono c'è un editing dietro ho dovuto prendere il materiale e darlo a davide che in un paesino abita in un paesino vicino crotone a circa 30 35 km quindi ho dovuto prendere tutta il mio hard disk e non solo tutte le sd portando anche dietro del materiale parecchio costoso e darlo a davide scaricarlo passarci un pomeriggio e vedere come impostare il video e quant'altro questi invece sono dei video in cui io parlo direttamente attacco infatti l'entrata lo vedete non sono seduto sul mio classico divano oppure io seduto così metto in pausa e voi già mi vedete seduto perché non c'è taglio quindi sono dei video molto più diretti entrate direttamente a casa mia io entro direttamente a casa vostra nessuno però chiama la polizia perché non è il figlio di maria insomma sia un ladro o una spia ma vado ogni modo e torniamo a noi quindi sono dei video molto più diretti molto più tranquilli e quindi io semplicemente prendo la mia la mia canon icsus a 720 di qualità metto rec mi preparo siedo parlo c'è una piccola bagiù che davanti a me che mi sta bronzando praticamente è semplicemente questo questi video pronto consumo sono di ottimi metodi anche per qualora ci dovesse essere dei commenti delle cose che io invito sempre a mettere dei like o delle domande che volete fare degli argomenti che volete trattare molto speed così molto veloce e sono ottimi perché perché io appunto leggo il commento e registro e mando direttamente il video su youtube di base questi sono fatti anche con qualche giorno di anticipo però sono mentre gli altri sono registrati per esempio a settembre voi li vedrete il prossimo settembre perché ripeto sono una programmazione settimanale di 82 video giusto per farvi capire questi vengono fatti tre o quattro giorni prima di essere mandati in onda qualcuno devo essere sincero qualcuno è stato fatto molto precedente cioè molto prima rispetto alla all'uscita per esempio anche due settimane prima tre settimane prima con un mesetto prima però di base questi qua io li carico proprio li registro tre o quattro giorni prima una settimana e poi li ricarico direttamente c'è con quali carico quindi se avete domande curiosità e quant'altro li prendo li metto insomma sul sul canale questa programmazione continuerà naturalmente modificando appunto un po la questione la lo semplicemente l'estetica del del mio del mio sfondo che questo è un armadio fondamentalmente l'avete capito si apre questi qua che vedete sono oggetti di viaggio questi sono cose giapponesi l'ho già detto in qualche volta altri sono ricordi ricordi dell'infanzia se riconoscete questi marchi o queste scritte insomma sapete di che cosa a che cosa mi riferisco e poi per il resto niente sono ripeto sono dei video diretti semplici molto corti semplicemente questo ok ragazzi io spero che anche questi tipi di format vi possano piacere e poi per il resto niente buon allenamento da in sport ciao